Salve a tutti carissimi sorelli e fratelli gambaristi. Beh, un gambare per due persone, naturalmente se è solo per due persone, un sementegrale. O altrimenti, laddove sia una coppia che ha necessità, cioè che non abbia necessità di tanti spazi, anche un bel fulgonato. Dipende dall'esigenza personale e dipende se la coppia si accontenta del minimo indispensabile oppure vuole spazi grandi. Perché dico questo? Perché per due persone ci sono campi anche da nove metri. Dipende quello che uno deve fare. E anche le tasche, quando si vuole spendere. Ciao!